Amici e amici sportivi e appassionati di calcio, ben ritrovati all'appuntamento settimanale del sabato mattina con il Mago del Bet su Stapp Radio. Oggi si gioca la quinta giornata di ritorno di Serie A, la ventiquattresima per l'esattezza. Ieri sera si è giocato l'anticipo Juventus-Frosinone. La partita è terminata con un secco 3-0 per la Juventus. Ma prima di vedere in dettaglio le rimanenti partite di oggi e domani, leggiamo insieme la classifica generale di Serie A. Grazie a tutti.